Partiamo quindi da Stefano, Stefano Quintarelli, con il suo Sottomartini non nuotano, che è un titolo molto interessante. Buona presentazione. Grazie. Allora, nei prossimi 50-60 minuti, no scherzo ovviamente, il mio obiettivo è di dare, però non so perché non c'è la mia slide, le abbiamo provate prima, perché tutti parlano di intelligenza artificiale, io vorrei spiegare veramente di che cosa si tratta, quindi cerco di farlo in un modo abbastanza preciso, diciamo non è al 100% però di darvi il senso. Allora, quando pensiamo, mi focalizzo su una parte dell'intelligenza artificiale che è quella di gran moda, e diciamo è quella che di fatto ha rilanciato tutto il tema dell'intelligenza artificiale negli ultimi anni, che è il cosiddetto machine learning, cioè l'apprendimento delle macchine. Quando noi pensiamo a un computer, pensiamo a una cosa fatta così, dove abbiamo il computer, abbiamo un programma, dei dati in input e quello calcola un output, e due per tre fa sempre sei, cioè la ricetta viene eseguita sempre in modo deterministico. Il machine learning cambia un po' le cose, le carte in tavola, perché si parte da un computer al quale vengono forniti dei dati, vengono fissati dei parametri, regolati dei parametri, è un'attività un po' artigianale, e a partire da questi dati vengono estratte delle correlazioni, vengono trovati dei modelli che sono presenti all'interno di quei dati, e quei modelli vengono poi usati con nuovi dati per fare delle predizioni. Questo sembra una cosa molto complicata, in realtà non è così complicata. Voglio sottolineare solo il fatto che qui si parla di predizioni e non di output, perché sono sì calcolate, ma sono probabilistiche, non è la ricetta come fare l'uovo al tegamino e quindi tutti i passi sono quelli e si arriva in fondo. Qui si osserva il mondo, si prendono i dati dal mondo, sulla base dei dati si estraggono dei modelli statistici e quei modelli statistici vengono usati per fare delle predizioni. Quindi machine learning vuol dire fornire a un computer l'abilità di apprendere e applicare modelli statistici non esplicitamente programmati. Di questi modelli, di questi algoritmi di classificazione statistica, Wikipedia ne elenca circa 80. Vi faccio un esempio chiarissimo di modello statistico estratto dai dati. Rosso di sera, bel tempo si spera. È rigoroso. Oggi vediamo che c'è bel tempo, se pensiamo a ieri sera, ieri sera c'era rosso alla sera. In genere, quando c'è rosso alla sera, il giorno dopo c'è bel tempo. Questo perché accade? Non importa sapere perché accade, in realtà i contadini non lo sanno perché accade, però la regola l'hanno calcolata, l'hanno trovata. Sono partiti da un'osservazione della realtà per determinare un modello che poi, a fronte di nuovi dati, stasera non c'è rosso di sera, viene usato questo modello per fare una predizione. Probabilmente domani piove. Questa cosa c'è anche in Inghilterra. Red sky at night, shepherd's delight. Cioè abbastanza comune. Questo perché? Perché le perturbazioni sono di origine atlantica. E quando ci sono i nuvoloni densi di acqua alla sera, là in fondo, le luci del sole, la luce del sole che si abbassa, non fa filtrare i raggi con le frequenze più corte, quindi i raggi rossi, e quindi non vediamo il sole rosso. Quindi vuol dire che lì a ovest ci sono dei nuvoloni che poi probabilmente, quindi, i venti portano e piove. Ma non importa capire perché. Questa è una spiegazione scientifica che abbiamo ricostruito dopo. In realtà avevamo già capito che rosso di sera, giorno dopo, bel tempo. Si spera, è probabilistico, perché qualche volta arriva anche una perturbazione da montagna. Ecco, questa è l'essenza del machine learning. Cioè, capito questo, abbiamo capito un buon 30% di quello che è l'intelligenza artificiale. Vi faccio un altro esempio, un filino più complicato. Immaginiamo di dover andare in Finlandia, ad Helsinki, e mancano nove mesi alla partenza. Il prezzo del volo ha un determinato prezzo, poi il prezzo cala e poi ricomincia a salire e in prossimità della data di partenza il prezzo è al massimo. Questo lo sappiamo tutti. Cioè, se adesso guardiamo un prezzo per andare a New York tra un anno ha un prezzo alto. Se lo guardiamo tra tre mesi costa un po' meno, poi effettivamente tra undici mesi, quando stiamo per partire, il prezzo è ai massimi. Questo andamento, questa regolarità statistica all'interno dei prezzi, c'è sempre. C'è sempre. Quindi, se noi apprendiamo, osserviamo i dati dei prezzi dei voli degli aerei, siamo in grado di estrapolare quella regolarità statistica. Chi di noi ha consuetudine, chi mai ha fatto un budget, ha usato Excel per fare le regressioni lineari, quindi trovare delle interpolazioni. Non lo devo spiegare a voi che siete professori. E da qui tiro fuori il modello. Cos'è il modello? Il modello è questa funzione qui, in questo caso. È chiaro che questa linea verde è un modello che descrive molto male la realtà osservata. E la descrive molto male, tant'è che qui vediamo che il coefficiente di determinazione è solo 0,3. È pessimo. Allora, cambio dei parametri, regolo dei parametri, in questo caso il tipo di interpolazione, e già il modello ci piglia un po' di più. Aumentando poi il modello una polinomiale di ordine 3 ci piglia ancora di più. Una polinomiale di ordine 4 si approssima molto bene. E vedete che questo modello già descrive abbastanza bene questa regolarità. Questo modello mi è già molto utile, perché io posso dire mancano quattro mesi alla partenza, il biglietto costa 300 euro, quando mi conviene comprarlo e probabilmente quanto mi potrebbe costare. Una volta che io ho derivato questo modello riesco a fare ragionamenti di questo tipo. Ragionamenti di questo tipo sulla base... Beh, naturalmente tra il modello e la realtà c'è uno scostamento, perché è un modello che descrive la realtà, non è la realtà. C'è uno scostamento. Lo scostamento sono queste barrette gialle. Quando è che un modello è buono? Un modello è buono quando queste barrette gialle sono piccole e sono uniformemente piccole, perché se tante sono piccole ma due sono molto alte, non è un buon modello. Devono essere piccole e uniformemente piccole. Questa si chiama funzione di costo in intelligenza artificiale. Fare un buon modello si fa minimizzando la funzione di costo. Se pensate alla retta dell'interpolazione prima, la distanza era molto grande, quindi il costo era molto alto, questo ha già un costo abbastanza abbastanza ridotto, che non è altro che la deviazione standard dei delta, delle variazioni. Così faccio un modello che aderisce in qualche modo che mi rappresenta la realtà. Adesso vi ho fatto un esempio bidimensionale. Bidimensionale perché è il prezzo di un volo nel tempo. Prima era monodimensionale, rosso di sera, bel tempo si spera. Ma se pensiamo a un appartamento, un appartamento, il prezzo di un appartamento dipende dal metri quadri, dal numero di vani, dalle finestre, dal piano, dall'età del condominio, dalla classe energetica, dal quartiere dove si trova e via dicendo. Tutte queste dimensioni aggiuntive concorrono a determinare il prezzo. Esiste una correlazione tra queste dimensioni e il prezzo. Noi non riusciamo a vederle in modo facile, ma se prendiamo i prezzi di mille appartamenti, li diamo in pasto a una calcolatrice, a un calcolatore e gli diciamo trova le correlazioni, quella le trova le correlazioni. E quindi è in grado di dirmi un appartamento di quattro vani che è al quinto piano, ultimo piano, nel quartiere più bello di Bergamo, in un palazzo recente con una classe energetica a più, col portiere, il garage e la scuola sotto casa e il supermercato dietro l'angolo vale 800 mila euro. Questo tipo di competenza era propria degli agenti immobiliari, che non è che fanno solamente le stime, poi devono convincerti che cavoli la roba che interessa a te è il terrazzo e guarda qui c'è e trascurare tutto il resto perché tu stai comprando per il terrazzo, cioè gli agenti immobiliari fanno anche altro rispetto a fare la stima, ma questa era una competenza che era tipica degli agenti immobiliari che in qualche modo io riesco a catturare e a trasferire in una macchina, in un computer. Stesso discorso per quanto riguarda la classificazione. Sono cose che vengono fatte normalmente, magari non le chiamavamo intelligenza artificiale, ci sono dei punti dimmi quelli che stanno di qua, quelli che stanno di là, che può essere quelli che supereranno un esame e quelli che non lo supereranno sulla base di alcuni parametri. Naturalmente questo è un modello molto semplice, bidimensionale, però avete capito che possono essere coinvolte tantissime dimensioni, quindi l'esempio dell'appartamento posso averne dieci. Le cellule in un determinato modo, c'è un tumore, non c'è un tumore e via dicendo. Questa linea, questa linea verde che ci consente di dire le cose stanno o di qua o di là, si chiama confine della decisione, decision boundary. La decision boundary si costruisce, si calcola con degli algoritmi statistici di nuovo e questi sono esempi di decision boundary un po' più complicati. si possono fare decision boundary veramente molto complessi. Per fare questo si usa una tecnica che ha un'analogia con il funzionamento dei neuroni. Ripeto, non è un modello, è un modello di come noi interpretavamo i neuroni negli anni 50, quindi 70 anni fa noi pensavamo che i neuroni fossero fatti in un modo, oggi sappiamo che non è così e semplificando abbiamo fatto un'analogia. I neuroni, qui immagino ci siano docenti anche di biologia, c'è un nucleo, c'è l'assone rivestito da una membrana isolante che si chiama mielina e isolante parte una scarica elettrica che viene mandata agli altri neuroni attraverso queste giunzioni che si chiamano sinapsi. Un neurone mediamente è collegato a mille altri neuroni a valle, ovvero ogni neurone ha a monte svariate centinaia o migliaia di neuroni. I neuroni che stanno a monte si attivano, mandano una scarica, questa scarica arriva a me, neurone, io mi attivo e a mia volta mando una scarica. Cioè c'è questa propagazione delle scariche. Questo come viene modellato? E questa è stata l'intuizione degli anni 50. Viene modellato così. Lo stato di questo neurone dipende dal livello di attivazione dei neuroni che stanno a monte moltiplicato per un peso delle sinapsi. Perché le sinapsi, è stato detto, possono favorire la scarica o inibirla. Quindi lo stato di questo neurone, quanta corrente arriva a questo neurone? Beh, dipende da quanto corrente c'era nei neuroni a monte e dal fatto se la sinapsi favoriva la scarica o la inibiva. Quindi, banalmente, lo facciamo con una somma pesata. sembra complicato ma è molto semplice. Questa è una rete neurale molto semplice, il modello si chiamava percettrone, fatto appunto negli anni 50. Posso complicarla ad libitum, aggiungere vari livelli, aggiungere vari nodi e così posso avere una rete abbastanza complicata. Vediamo chi è più veloce a calcolare lo stato di questo neurone bianco qui. Dai, non siate timidi. Qualcuno che faccia i conti al volo? Eh? 0,2. Bravissimo, chi l'ha detto? Perché è la somma pesata di questo. Eh, accidenti qui. Questo tablet è un po' complicato. È meno 0,3 per 1 più 0,5 per 0 più 0,5 per 1 e questo mi determina nello stato di questo neurone. In notazione vettoriale per chi se lo ricorda è fatto così, in notazione matriciale ed è più semplicemente descritto come W per A, W sta per weight e A per activation level. Insomma, W per A. Lo fa una calcolatrice? Cioè, ci sono dei programmi sul computer tipo la calcolatrice dove uno scrive W è questo, A è questo, fammi W per A e quello mi fa il calcolo. Anche su situazioni più complicate, su reti più complicate. Questo vettore di risultati questo vettore di risultati è W per A. W è questo, A è quello, W per A e mi tira fuori i risultati. Sempre somme e moltiplicazioni sono. Io sto emulando, vi ricordo, una rete neurale che serve a fare decision boundary molto complessi per fare classificazione molto complessa facendo somme e moltiplicazioni. Questo qua è la nostra rete neurale quindi, molto semplice con quei pesi e aggiungiamo la rete neurale può avere degli altri pezzi. In questo caso questo neurone qui sotto è 0,5 perché? Perché è 0 per 1 più 0,5 per 0 più 0,5 per 1 uguale 0,5. E se questo 0,5 lo volessimo cambiare e farlo diventare 1? la risposta ovvia è che dovrei andare a cambiare i pesi qui. Se io al posto di 0 qui metto 0,5 questo neurone diventa 1. Giusto? Avete adesso visto in nuce quello che è un algoritmo che è stato implementato per la prima volta nel 1972 che si chiama backpropagation. Allora immaginiamoci adesso di dover fare un sistema che riconosce le taglie di un vestito. Metto in input le dimensioni del vestito qui e mi aspetto di leggere qua i valori di probabilità della taglia. Ad esempio questo. Questo è un vestito che è certamente una small diciamo con altissima probabilità una small forse potrebbe essere una medium. Calcolo faccio i calcoli questo non è altro questo qui e non è altro che questi pesi per questo livello di attivazione vado avanti vedete la scarica si che si propaga in questo l'analogia con i neuroni questo si chiama forward propagation e ottengo e calcolo degli esiti dei risultati che sono questi. La rete è stata fatta un po' a casaccio e c'è una grande differenza tra quella che mi aspettavo e quello che ho calcolato. chiedo a un umano di correggerlo e mi dice ok guarda qui c'è un delta che è 0,4 come faccio ad andare a correggere questo 0,4 tra il valore che la rete ha calcolato e il valore che realmente mi aspettavo tra questo 0,6 e questo 0,1 con la back propagation cioè vado a correggere i pesi a monte come abbiamo fatto poco fa nei vari livelli in modo tale che quando arriva di nuovo un vestito con queste dimensioni il sistema mi predica correttamente che questa è la taglia è sempre probabilistico sempre rosso di sera bel tempo si spera però così facendo quindi faccio una forward propagation e arrivo a calcolare ho una discrepanza molto alta vado a modificare un po' i pesi e faccio questa back propagation per modificare i pesi in modo tale che la rete possa dare una predizione corretta questo è quello che viene chiamato in atteggenza artificiale learning apprendimento con una rete neurale una rete neurale che ha due strati intermedi che si chiamano strati nascosti perché in realtà quello che conta è l'input e l'output si chiama deep learning e questa è una deep neural network una rete neurale profonda allora è stato già ricordato prima nella battuta chi è sei un umano o non sei un umano quando google ci chiede queste cose non ci sta facendo altro che chiedergli di confermare se la sua predizione è giusta che è un'attività che può fare tipicamente un umano google probabilmente qui non è indeciso se dire se questa è una strada o un marciapiede quando noi gli diciamo che questo non è una strada quello impara e fa una back propagation e va ad aggiornare la sua rete neurale in modo tale che la prossima volta che se la trova di fronte sia in grado di dire questo non è una strada allora qui c'è questa battuta molto divertente che dice per completare l'autoregistrazione dici se questa pagina contiene un segnale di stop qua sì no rispondi in fretta perché la nostra auto a guida autonoma è quasi all'incrocio ok vedete un'immagine con dei numeri scritti a mano non è altro che un insieme di pixel in questo caso sono 400 punti 20 per 20 la rete non ha la concezione del numero la rete non ha neanche la concezione dell'immagine il concetto dell'immagine la rete quello che fa è prendere una sequenza di valori e trovare delle correlazioni quindi in questo caso io prendo una rete che ha 400 nodi di input faccio una forward propagation se la rete mi predice 0,8 va bene se non mi predice 0,8 vado con questo algoritmo della back propagation a correggere i pesi fino a quando mi predice 0,8 e a quel punto se si trova davanti a un altro 8 la rete tutti questi punti srotolati questi 400 punti srotolati e dati in input alla rete e mi consente di capire di andare a riconoscere le cifre naturalmente questo lo faccio per tutti e dieci le cifre così facendo a destra una macchina riconoscere le cifre scritte a mano così poi quando le persone compilano i moduli delle tasse possono leggerle in automatico si spera perché fanno sempre errori perché sono modelli statistici vabbè questo qui è un esempio di una rete con un solo livello nascosto che fa esattamente questo mi preme evidenziare solo questo fatto che abbiamo 400 nodi di input ho fatto un hidden layer un layer nascosto di 25 nodi e quindi qui ho 10.000 pesi poi 25 per 10 250 pesi qui in totale ho 10.285 variabili rosso di sera bel tempo si spera è una variabile il prezzo nel tempo sono due variabili due dimensioni l'appartamento erano una decina riconoscere una roba fatta così richiede più di 10.000 variabili una rete grande può avere centinaia di milioni di variabili questo per dare allora perché funzionano queste cose oggi una rete che riconosca i numeri quei 10 numeri quelle 10 cifre fa 205 miliardi di calcoli somme e moltiplicazioni per addestrarsi per imparare la classificazione 205 miliardi di calcoli sul mio computer ci mette due ore e mezza a fare questa cosa posso efficientarlo e magari scendere un'ora però stiamo parlando di tanto tempo ci sono dei processori dei computer che fanno 30 miliardi di operazioni al secondo che vengono impacchettati tanti di questi processori in un computer unico e fa 320 miliardi di operazioni al secondo questo viene messo dentro all'interno del baule di un'auto e l'auto non fa altro che a fronte di cose che ha già visto la rete neurale fare delle predizioni predizioni che sono destra-sinistra accelero-freno ma tutto questo non ha la concezione della strada del pedone eccetera ha semplicemente correlazioni tra i comportamenti che le persone hanno avute quando gli scenari avevano quelle correlazioni simili come si fa a riconoscere una persona? si addestra una rete si prende questa immagine come l'otto si srotolano tutti i pixel si dà in pasto alla rete e gli si dice questa è una persona questa non è una persona se non lo è dopo un po' dopo che gli ho fatto vedere mille immagini di persone la rete è in grado di riconoscere una persona allora prendo una foto isolo una parte la do in pasto alla rete e gli chiedo qui c'è una persona? quanto tempo ha ancora? è finito 5 minuti fa no aveva detto 25 minuti dov'è Dianora? prego andiamo a conclusione se andiamo a conclusione come faccio? prendo la cosa lo do in pasto do tutte le sezioni cambio la dimensione della griglia cambio la dimensione della griglia a questo punto ho riconosciuto le persone stesso discorso per i caratteri riconoscere le persone è un'attività che le auto devono fare in tempo reale stesso discorso per riconoscere i caratteri a questo punto questa cosa la salto e vado alla conclusione voi capite che queste macchine non hanno il concetto di quello che stanno facendo non sono coscienti una rete addestrata a riconoscere una persona una rete addestrata a guidare una rete addestrata a riconoscere i numeri a predire cellule cancerogene a predire voti per una cosa a predire se una persona può essere recidiva sulla base dei dati statistici non fa altro che applicare un modello un modello che ha appreso che essendo un modello non è la realtà e sbaglia non è in grado di rispondere alla domanda quanto fa 2 più 2 sono cose molto specifiche quindi quando sentiamo parlare del fatto che l'intelligenza artificiale distruggerà ci ruber e arriveranno macchine che fanno qualunque cosa è una bagianata è fantascienza è totalmente fantascienza è una bagianata queste cose ci aiutano a fare le cose in modo più veloce come la calcolatrice ci aiuta a fare la radice quadrata in modo più veloce come Excel ci aiuta a fare un budget in modo più veloce tutte le attività umane beneficeranno di questo tutte quindi ci aumenterà la nostra efficienza la nostra capacità e quindi certamente visto che saremo più veloci a fare le cose più efficienti avremo una riduzione dei posti di lavoro in quelle cose ma se ne creeranno di nuovi no le statistiche gli studi più recenti dicono togliamo 75 milioni di posti che sono tipicamente quelli con attività molto ripetitive e ne creiamo di più di nuovi ci sarà una compressione degli stipendi più ripetitivi l'ultimissima cosa sulla quale mi voglio soffermare e poi chiudo è questa sono modelli statistici rosso di sera bel tempo si spera noi tendiamo ad avere dei computer l'idea che calcolano e che quando dicono una cosa è esatta non è così con l'intelligenza artificiale le macchine una macchina perfettamente funzionante fa delle predizioni errate esistono due misure in statistica il recupero e la precisione il recupero è di tutti quelli che mi sono passati davanti quanti criminali sono riusciti a riconoscere la precisione di tutti quelli che ho riconosciuto quanti erano criminali veri se sono in Cina mi interessa riconoscere tutti i criminali e se ci finiscono dentro un po' di innocenti un po' come dal salumiere che faccio lascio da noi invece ci interessa che neanche un innocente vada in galera e quindi siamo più interessati alla precisione e qui c'è una scelta c'è una scelta di fondo etica che cosa si privilegia il fatto poi se noi partiamo da dati per estrarre modelli se quei dati sono sporchi abbiamo predizioni sporche i dati possono essere sporchi perché sono presi male ma possono essere sporchi perché non sono aderenti alla nostra visione del mondo il turco è una lingua senza genere è l'ultima cosa il turco è una lingua senza genere la traduzione automatica si fa prendendo romanzi scritti nelle due lingue e trovando le correlazioni tra i pezzi di frase essendo una lingua senza genere infermiere non dice se è uomo o donna però se lo traduco me lo traduce in donna dottore non dice se è donna o uomo ma se lo traduco me lo traduce in uomo e via dicendo per cui vedete delle cose che sono tipiche della cultura che ti dicono molto lei è sposata lui è single lui è felice lei è infelice lui è un forte lavoratore lei è pigra se noi usiamo questi sistemi per predire ad esempio gli stipendi delle persone entra una persona in organizzazione quale deve essere lo stipendio giusto sulla base degli stipendi non facciamo altro che cristallizzare i bias che ci sono nella società perché la società è diversa da quella che noi vorremmo perché la presentazione si chiamava i sottomarini non nuotano perché i sottomarini vanno sott'acqua non nuotano ma fanno cose molto interessanti l'intelligenza artificiale non è una vera intelligenza è l'estrazione e l'applicazione di metodi statistici si producono degli errori fanno delle cose molto utili ma non è vera intelligenza grazie 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 grazie